Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come risparmiare tempo con l'intelligenza artificiale. Lasciate un bellissimo like. Allora, immaginate che volete vedere questo video, ma questo video dura 24 minuti. Come potete fare per risparmiare tempo? Lo facciamo in due passaggi. Il primo passaggio è quello di copiare il link del video su YouTube. È importante che sia su YouTube perché ci baseremo sulla trascrizione del video. Dopodiché andiamo su questo altro sito che si chiama Download YouTube Subtitles e andiamo a incollare quello che abbiamo copiato in precedenza. Una volta che ci ha generato appunto il file txt con tutti i sottotitoli del video, possiamo fare Download e qui andiamo a ottenere tutte le cose che vengono dette nel video. Ora l'intelligenza artificiale è limitata, nel senso che non riesce a gestire più di 250 righe e quindi è importante che non andate a copiare più di 500 righe perché qua appunto c'è uno spazio di separazione. Potete fare ovviamente questa procedura più volte per avere la completa traduzione e riassunto del video. Quindi vado a copiare il testo. Andiamo poi su Chat GPT e chiediamo un riassunto. Riassumi il seguente testo. E facciamo Incolla. E come per magia, l'intelligenza artificiale ci dirà un riassunto di quello che viene trattato sul video in questione. Pazzesco. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.